Erano specializzati nel furto con scasso dei soldi contenuti nei distributori automatici di vivande all'interno degli ospedali. Dopo una brillante operazione di polizia condotta dalla squadra mobile di Fano, condotta dal dirigente Stefano Seretti e dai colleghi della questura di Pesero, tre pericolosi pluri pregiudicati con reati che vanno dal furto alla rapina fino anche per uno di loro all'omicidio colposo, sono stati assicurati alla giustizia. Il terzetto, due di origini siciliane ed un pugliese, con una tecnica ben consolidata e strumenti agili, si era specializzata in questo tipo di reato ed operava su un vasto territorio, mettendo in atto decine e decine di colpi che gli fruttavano anche 500 euro a volta. Nell'ospedale di Fano svaliggiati in pieno giorno ben quattro distributori, uno in ortopedia, due nel blocco B e uno nei laboratori analisi. Ed è proprio da questo episodio che è partita l'indagine della polizia per arrivare al loro arresto. Tre malviventi veramente molto agguerriti, specializzati proprio nel compiere furti all'interno di ospedali, avevano alle spalle un curriculum criminale veramente nutrito, anche omicidi. Si muovevano praticamente quasi tutti i giorni, visitavano in continuazione molti ospedali delle Marche, dell'Emilia Romagna, del Veneto e anche della Lombardia, colpivano solo ed esclusivamente all'interno di ospedali, non avevano altri obiettivi da colpire e da raggiungere, quindi si dedicavano esclusivamente agli ospedali, nei confronti di quali si erano completamente specializzati. E ripeto, è stato un ottimo risultato questo per il nostro territorio e non solo, anche a livello extra regionale, quindi soddisfatto dell'attività dell'ufficio anticrimine di questo commissariato.